ciao bello era da tantissimo tempo che dovevamo fare una diretta live nei negozi guarda mi tolgo un attimo che sto lontano anche io dalle clienti questa mattina volevo sapere da te come stiamo andando bisogna migliorare il servizio bisogna ascoltare di più la cliente cosa che con la velocità del lavoro non possiamo farlo invece oggi magari si lavorerà di meno io mi ricordo un corso che pensi anni fa con una persona molto caro a me che purtroppo non ho più visto e né sentito nel mio settore che non voglio dire nome e cognome perché magari non ho per appena anche nell'ambiente però una persona che io avevo stimato mi disse che quando non si fa tempo a una cliente tante volte noi siamo in un negozio senza lavoro entra una neanche ci va di servirla invece in quel momento noi dobbiamo dare il massimo di noi proprio perché quella che è entrata porterà poi dopo nuove persone questo è il momento di dare tempo a chi viene da noi dedicargli tempo amarla capito bene proprio per questo motivo ti informo che è nato questo gruppo privato che si chiama concept academy dove faremo formazione per i giovani e tu sarai uno degli insegnanti dentro la piattaforma e questo gruppo serve anche che è privato per discutere tra professionali come affrontare o come migliorare questo cambiamento di costume perché sicuramente non è più il parrucchiere di una volta sarà sempre creativo però dovremo cambiare abitudini noi e farle cambiare anche alle clienti che dire è ovvio che le clienti oggi sono abituate a svolgere nel salone determinate cose no ma noi dobbiamo anche impararle noi insegnare noi alle nostre clienti ha il comportamento insegnare alle nostre clienti la tempistica in quanto questo problema che abbiamo io spero che si risolva il prima possibile ma lavorare in un ambiente dove non possono entrare più di tolte persone si deve stare con la mascherina dobbiamo parlare poco ma concetto è questo parlare poco ma colpire bene capito per esempio noi con queste piattaforme che stiamo utilizzando insieme a te che prima erano impensabili con se te la sta utilizzando per avere delle consulenze online private per vedere far vedere materiali o colori per poi quando l'aliente viene il negozio perché adesso abbiamo dei tempi stretti che più di tante persone non si può fare e fare una consulenza seria ci vuole un pochino di tempo e noi dedicheremo del tempo e già a questo lavoro adesso io caro francesco vi lascio e spero di rivederci presto perché abbiamo bisogno tutti di una collaborazione più stretta e quindi ci aggiorneremo nei prossimi giorni io e te per poi dopo magari fare una diretta anche diciamo di una di un qualcosa che possa essere più costruttivo da parte di chi ci vede di da parte di chi ci ascolta va bene la possiamo fare o pubblica o anche privata tecnica per gli addetti ai lavori e certo poi dopo tu sarai il manager che gestirà questa cosa perfetto io ti lascio il tuo lavoro ti ringrazio un saluto e condividi questo nel tuo gruppo buona giornata a tutti vi saluto vi ringrazio e mister signorelli vi abbraccio forte anche se è un abbraccio virtuale ciao 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 ciao